Noi le chiamiamo vittime perché sono persone che hanno sofferto la tirannia e la manipolazione di questi gruppi, perché sono rimaste sole, dato che tutti i loro riferimenti erano all'interno del gruppo, perché le loro risorse economiche sono state quasi sempre prosciugate dalla setta e si ritrovano spesso senza occupazione ad affrontare enormi problemi di reinserimento in società, di natura pratica, psicologica ed economica. Molto spesso l'assenza dei punti di riferimento esterni fa sì che molti, in ultima analisi, finiscano per desistere dall'idea di abbandonare il gruppo, sebbene all'interno dello stesso vivano enormi difficoltà. E per coloro, per questi che navigano nel buio all'ombra di questa realtà, l'Associazione Italiana Vittime delle Sette vuole rappresentare un faro e soprattutto offrire un aiuto concreto, lì dove lo Stato si mostra tuttora assente. Il fenomeno delle cosiddette Sette, pur essendo molto più diffuso di quanto si creda o di quanto si sappia, viene regolarmente sottovalutato da chi lo critica, ma anche sopravvalutato da chi conta di trarne benefici politici. Il caso più recente e declatante è stato, ci dispiace dirlo, quello della concessione dell'otto per mille da parte del governo dell'allora premier Matteo Renzi alla Sogracai, una delle sette più ricche e pericolose del pianeta. Quando dico pericolose, ma intendo in senso criminale, lo dico con profonda la conoscenza del problema, avendone fatto parte per 30 anni e conoscendo tutti in retroscena di questa pericolosissima setta che adesso è religione dello Stato. Fu una scelta bizzarra, bizzarra quanto opinabile quella di Matteo Renzi, che riteniamo decisamente motivata dalle vecchie logiche del voto di scambio. Una scelta che si è rivelata però, in definitiva, un vero e proprio inganno ai danni dello stesso Renzi, il quale aveva improvvidamente creduto sia alla millantata entità delle loro schiere di adepti che al presunto orientamento politico degli stessi. Le istituzioni di cui si è detto tendono, se non ad incolpare, perlomeno a biasimare in modo più o meno esplicito le vittime stesse, poiché l'adesione a questi movimenti è per lo più, almeno superficialmente, volontaria. Di conseguenza non offrono alcun sostegno sociale, economico o tanto meno psicologico e giuridico per aiutare costora ad avere un giusto indennizzo o a reinserirsi nel normale ciclo della vita. Potremmo dire che le vittime delle sette vengono in tal modo a trovarsi in una posizione niente affatto di simile da quelle dello stalking o di uno stupro, ergo sottoposte dalle medesime autorità ed istituzioni che dovrebbero proteggerle, a screenings quantomeno condiscendenti che spesso celano veramente il solito inconfessabile retropensiero, il solito pregiudizio, ma in fondo probabilmente se l'è cercata. Il sistema pubblico, e parlo di tutte le strutture tribunali e tutte le strutture pubbliche appunto che avevano rapporti col Forteto, ha mantenuto costantemente aperta una linea di credito illimitata verso la struttura, nonostante gli arresti prima del 1978, perché il capo era stato già arrestato nel 78 per gli stessi reati per cui è stato condannato oggi, e poi nel 2012 dei vertici della cooperativa. Questo grazie anche alla linfa ricevuta da amministratori pubblici ed esponenti politici che hanno garantito sovvenzioni e sostegno istituzionale. Nessuno ha controllato negli anni cosa accadesse in questa comunità, anche perché c'era stata la Corte Europea dei diritti dell'uomo che aveva già condannato l'Italia per le violazioni commesse nell'affidamento di due minori nella stessa comunità. Cioè, dove era lo Stato? Sono un avvocato, lavoro nell'ambito della violenza, esercito la mia professione essendo già specializzata nella violenza endofamiliare, intrafamiliare, quindi contro le donne, ma anche contro gli uomini. Ho riscontrato delle analogie molto interessanti per ciò che riguarda appunto la violenza che viene esercitata all'interno dei gruppi considerati sette. Nella fattispecie concreta c'è una difficoltà incredibile nello scindere e nella divisione esistente tra la libertà di autodeterminazione di un individuo e quindi la possibilità di scegliere consapevolmente e scientemente di far parte di un gruppo e ovviamente la difficoltà che poi questo diventi una sopraffazione da parte del guru di turno che esercita la manipolazione mentale. Lo Stato è assente in queste cose. Abbiamo partecipato alla promozione di nuove interrogazioni parlamentari e di una mozione parlamentare. Non hanno ricevuto nessuna di queste, nessuna risposta. L'Italia quindi è proprio indietro in tutto questo. Volevo prima dire una cosa all'avvocato che ha parlato prima che dobbiamo specificare che nessuno entra in una setta, nessuno vuole entrare in una setta, nessuno sa di entrare in una setta altrimenti non lo farebbe. Le sette hanno una maschera molto pacificante, molto coinvolgente. Parlo di sette abusanti. Ti promettono la risoluzione di tutti i tuoi problemi nella maniera più dolce. In Italia negli ultimi anni si sono diffuse delle sette molto pericolose che entrano nel campo della salute. Passerei la parola e li ringrazio ovviamente per la loro presenza al senatore Pietro Liuzzi, membro della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio nonché su ogni forma di violenza di genere e alla dottoressa e senatrice Angela Donghia, sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca. Rapidamente introduco l'intervento di Raffaella ma prima quelli di Toni, di Lorita e dell'avvocato Montanaro. Da questi interventi si configura una rappresentazione di questi gruppi totalizzanti, sono stati definiti in questo modo come di uno Stato nello Stato, insomma quasi con leggi proprie, con regolamenti che a volte mi pare di capire, e correggetemi naturalmente se sbaglio, confliggono con quelli delle istituzioni. Quello che voi state presentando qui oggi sicuramente è un progetto importante, io quando parlavate pensavo a questa che poi effettivamente è una dispersione sociale, perché quando una persona entra in una setta mi pare di capire che è una persona che noi perdiamo. Allora questo è un paese che si occupa della dispersione scolastica, si occupa della dispersione, di vari tipi di dispersione, però non siamo, non abbiamo mai attenzionato un problema come questo che è effettivamente una dispersione sociale. Quindi io penso che quello che voi chiedete, un osservatorio da parte dell'organo che è lo Stato, dell'organo più importante, dello Stato, del Governo sia una cosa importante ed è una cosa che è attualizzabile, che può essere attuata. Sicuramente è un osservatorio, dobbiamo capire insieme a quali ministeri questo osservatorio deve, con quali ministeri deve nascere, perché? Perché è importante che i ministeri che devono essere attenzionati e devono far parte di questo osservatorio, devono essere poi quelli che si devono occupare delle varie sfaccettature. Apprezzo il contributo che qui è stato dato, particolarmente dall'avvocato Montanaro, quando ci ha detto partiamo ora da che cosa si fa. Un tavolo tecnico è stato auspicato. Ritengo che il Parlamento, nelle sue varie articolazioni, Camera e Senato, debba partire da questo presupposto di instaurare un tavolo tecnico. Sono stato fra l'altro anche fra coloro che hanno sottoscritto una interrogazione per denunciare ovviamente il fenomeno e ahimè non è arrivata una risposta al riguardo, però questo non deve farci desistere dalla necessità di porre il problema in termini molto più stringenti, chiaramente coinvolgendo sensibilità politico-culturali trasversali per essere in tema, perché questa necessità è così avvertita dove ovviamente dobbiamo mettere il cittadino in grado di avere certezze, assicurazioni, in grado di guardare ancora lo Stato come baluardo per la propria incolumità fisica, psicologica, in grado di assicurare lo Stato ai cittadini la integrità, chiaramente prima di tutto patrimoniale e poi dal punto di vista della qualità della vita, perché ognuno di noi non può rinunciare a questo presupposto di natura etica, morale e ovviamente sociale. Questo per quanto mi riguarda è un impegno che prendo qui in questo consesso e al cospetto degli autorevoli membri di questa bella conferenza stampa e ovviamente di quanti come voi siete intervenuti al riguardo. Grazie. 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 Grazie.